Sono andati fuori strada con la loro auto cadendo in un dirupo di 15 metri per poi finire contro un albero. Così ha perso la vita una coppia di anziani rispettivamente di 80 e 85 anni nel Pistoiese. Per i due ottantenni che non avevano fatto rientro a casa nella serata di ieri erano partite le ricerche dei vigili del fuoco del comando di Pistoia allertati dalla polizia. Gli anziani, secondo quanto si apprende, nella mattinata si trovavano nella zona di Badia Taona all'interno della foresta dell'Acquerino e i soccorritori si sono diretti lì. Ma mentre stavano effettuando le ricerche sono stati avvisati da alcuni conoscenti della coppia che la loro vettura era stata avvistata in via Baggio e Poggione in località Pratopiano sulle colline Pistoiesi. I pompieri insieme alla polizia hanno raggiunto il luogo dell'incidente constatando quanto era accaduto. L'uomo e la donna che si trovavano ancora all'interno dell'auto sono stati dichiarati privi di vita dal personale sanitario del 118 giunto sul posto successivamente insieme al personale del SAST, il soccorso alpino. Dopo aver ottenuto l'autorizzazione alla rimozione delle salme queste ultime sono state recuperate e portate sulla strada dal personale dei vigili del fuoco in collaborazione con quello del SAST e messe a disposizione dell'autorità giudiziaria.